Per Elodea, Pietro Gabriele, Alia e Stefano Gelmini il festival di Sanremo è sempre più vicino. Per questi quattro giovani bresciani giovedì a Roma sarà il giorno da ricordare. Sì perché giovedì potrebbero spalancarsi per loro le porte dell'Ariston. Da poche ore infatti hanno ricevuto la convocazione per partecipare all'ultima selezione di Sanremo Social. Sono infatti tra i 60 finalisti del concorso lanciato sul web. A Roma la commissione, capitanata da Gianni Morandi e Gianmarco Mazzi, giudicherà 60 nuovi talenti che presenteranno altrettante canzoni. Sei di loro saranno ammessi a Sanremo. Il primo a ricevere la chiamata è stato Pietro Gabriele, giovane bresciano d'adozione, nato a Pantelleria che ci ha raggiunto nei nostri studi. E niente, speriamo bene, speriamo che ci sia anche una minima speranza di arrivare fino in fondo. E comunque lotterò e me la giocherò con tutte le carte possibili. Destino è una canzone rock, un po' su note del British Pop, un po' con chitarre aggressive, ma che mantiene comunque quella melodia romantica, classica un po' della canzone Sanremese. Al telefono abbiamo invece sentito Allia, nome d'arte di Anna Pasotti, emozionatissima, pronta a preparare i bagagli, che ci ha raccontato la sua passione per la musica e il teatro. Ma a Sanremo, ci dice, non avevo mai pensato. Mi ha proposto di partecipare alla selezione il mio produttore, Giancarlo Prandelli, e sono emozionatissima. Anche Lodea e Stefano Gelmini sono pronti a partire, con l'entusiasmo e la voglia di arrivare a Sanremo, certo, ma con la consapevolezza di aver già raggiunto qualcosa di grande e forse di impensato. Yuri, il nostro Yuri, già vincitore di X Factor, è invece stato scelto come riserva. Troppo poco per lui viene da pensare anche a noi. E intanto, in attesa dell'annuncio ufficiale dei big in gara, previsto per domenica, si fa sempre più insistente la voce della presenza tra i big di Francesco Renga.